VALENTINO FERRARI e anche oggi suonerò la partita numero 3 di Johann Sebastian Bach. Buongiorno, io mi chiamo Nicola Ferrari e dirigo da un po' di anni il coro, la Corale Polifonica Santa Maria di Bogliasco che è un gruppo di persone che amano cantare, amano la musica, una trentina di persone variabili e proviamo tutte le settimane, loro provano con grande fatica e con grande dedizione e amore e per me questa è un'esperienza bellissima. Facciamo principalmente il repertorio polifonico di polifonia sacra e profana, più profana, rinascimentale. Questo anche legato alle voci che sono voci non impostate. Oggi faremo un programma di misto, quindi una parte sarà composta di canti di Natale, canti tradizionali di Natale e una parte invece sarà appunto della grande polifonia. Io sono Gian Battista Brunner, sono il presidente della Corale Santa Maria di Bogliasco, è una corale che funziona dal 1984, quindi ha molti anni di esperienza ormai e stiamo sviluppando un discorso rivolto essenzialmente alla polifonia rinascimentale e medievale, sia sacra che profana, per seguire ogni diviso culturale e omogeneo. Se qualcuno avesse piacere di unirsi al nostro gruppo, noi abbiamo quattro voci fondamentalmente, bassi, tenori, contralti e soprani, può rivolgersi negli uffici della parrocchia di Bogliasco che sa benissimo come ritracciarci, come contattarci. Dunque, io sono soprano Franca Piccini e canto in questo coro dal 2000, quindi 17 anni fa e beh, è una passione il canto per noi, per tutti noi e costa anche un po' di sacrificio perché bisogna venire o la sera o il sabato pomeriggio. Sì, sì, sà, di sà, agrae di, non si è buo in ciesa. Sì, sì, sà, di sà, agrae di, non si è buo in ciesa. Grazie a tutti.